Il principe e il povero Nascita del principe e del povero In un giorno d'autunno, verso la metà del secolo XVI, nella vecchia città di Londra, nella povera famiglia dei canti che non lo desiderava, venne alla luce un bimbo. Nello stesso giorno un altro bimbo inglese, ardentemente desiderato, nacque in una ricca famiglia con il nome di Tudor. L'Inghilterra tutta pur lo sospirava, l'aveva atteso per lungo tempo, l'aveva sperato e aveva pregato Dio per averlo e ora che realmente era arrivato, la gente quasi impazziva per la gioia. Persone che appena si conoscevano si abbrazzavano, si baciavano e piangevano. Tutti si presero una vacanza, nobili e plebei, ricchi e poveri facevano festa, ballavano e cantavano e si ubriacavano. Questa baldoria durò per vari giorni e varie notti. Londra, di giorno, era uno spettacolo da vedersi, bandiere dai colori sgargianti garrivano a tutti i balconi e su tutti i tetti delle case e festosi cortei sfilavano per le vie. Di notte era pure uno spettacolo, ma diverso, da non perdere. Immensi falò ardevano ad ogni angolo delle strade, attorno, gruppi di gente che danzavano allegramente. In tutta l'Inghilterra non si parlava d'altro che del neonato, Edoardo Tudor, principe del Galles, che giaceva sepolto in sete pizzi, inconscio di tutto questo baccano e indifferente ai grandi nobili e alle dame che lo assistevano lo vezzeggiavano, e anche ad altri che se ne infischiavano di lui. Nessuno invece parlava dell'altro bimbo, di Tom Canti, avvolto nei suoi poveri stracci, all'infuori dei componenti di quella famiglia di povera gente fra i quali egli era allora allora giunto a distrazione. Facciamo un salto di un certo numero di anni. Londra era nel quindicesimo secolo dalla sua fondazione ed era una grande città, per quei tempi. Aveva centomila abitanti, ma alcuni affermano che ne aveva anche il doppio. Le vie erano molto strette, tortuose e sporche specialmente nella località dove viveva Tom Canti e che non era molto lontana dal London Bridge, il ponte di Londra. Le case erano di legno, con il primo piano sporgente sul pianterreno e il secondo piano assai arretrato sul primo. Più alte erano, più si restringevano. Le costruzioni erano formate da solide travature incrociate, con le pareti di materiale ben robusto, rivestite di stucco. Le travature erano dipinte in color rosso, blu o nero secondo il gusto del proprietario e questo dava alle case un aspetto assai pittoresco. Le finestre erano piccole, con pannelli di vetro sfaccettati a forma di diamanti e si aprivano all'infuori, su cardini, come le porte. La casa dove abitava il padre di Tom sorgeva in una lurida piazzetta chiamata Offal Court, una diramazione di pudillane. Era piccola, squallida, maltenuta, ma stipata di famiglie poverissime. I canti occupavano una stanza al secondo piano. Il padre e la madre dormivano in una specie di letto in un angolo, invece Tom, la nonna e le sorelle, Beth e Nan, non avevano un posto fisso, perché tutto il pavimento era a loro disposizione e potevano dormire dove volevano. C'erano, a brandelli, un paio di coperte e alcuni fascelli di paglia stantia e sudicia che, per certo, non si potevano chiamare letti, non avendo alcuna forma, al mattino il tutto veniva accumulato in un angolo e alla sera ognuno prendeva dal mucchio quello che voleva per farsi il proprio giaciglio. Bette e Nan avevano 15 anni ed erano gemelle. Sempre di buon umore, sporche, coperte di strazzi, erano profondamente ignoranti. La madre era come loro. Il padre e la nonna invece erano due demoni. Si ubriacavano quando potevano e allora rissavano fra loro con chiunque gli capitasse tra i piedi, imprecavano e bestemmiavano sempre, sia da ubriachi che quando erano sobri. John Canty, il padre, faceva di professione il ladro e sua madre, la mendicante. Dei figli ne avevano fatto degli accattoni, ma non erano riusciti a farne dei ladri. In mezzo a quella gentaglia, ma senza far parte di essa, c'era in quella dimora un buon prete già avanti negli anni a cui il re aveva passato l'alloggio con una pensione di pochi fartins. Costui raccoglieva i bambini, in segreto, e insegnava loro la buona strada. Padre Andrew insegnò a Tom un po' di latino e a leggere e scrivere, avrebbe voluto fare lo stesso anche per le ragazze, ma esse avevano paura dei lazzi delle amiche che non avrebbero tollerato un tale trattamento di favore verso di loro. Tutto a Folkurt era un alveare come la casa dei canti. Ubriacatezza, ris e schiamazzi erano cose abituali di ogni sera e per quasi tutta la notte. Teste rotte, in quel posto, erano avvenimenti comuni come la fame. Tuttavia il piccolo Tom non era completamente infelice. Certo non se la passava bene, ma non se ne rendeva conto. Era scontato che tutti i ragazzi di Folkurti vivessero così, e perciò credeva che così fosse la regola generale un bene comune. Quando la sera rincassava a mani vuote, sapeva che suo padre lo avrebbe picchiato e che, dopo, l'avrebbe consegnato a quella megera di sua nonna che lo avrebbe ripassato un'altra volta, rincarando la dose. A notte alta però sua mamma, pure lei affamata, sarebbe andata furtivamente da lui con un tozzo di pane secco che si era tolto di bocca, e questo anche se spesso veniva scoperta e picchiata dal marito. In complesso la vita di Tom non era poi troppo brutta, specie d'estate. M'indicava solo quel tanto che bastava per salvarsi dalle botte, giacché le leggi contro l'accattonaggio erano severe e le pene rigorose. Perciò passava lungo tempo ad ascoltare padre Andrew con le sue meravigliose vecchie leggende e racconti di giganti e di fate, di gnomi e genietti, di castelli incantati e sfarzosi, di re e di belle principesse. Nella sua mente turbinavano queste cose meravigliose e spesso durante la notte. Al buio, sdraiato sul duro e insufficiente giaciglio di paglia, stanco, affamato, indolenzito per le percosse, fantasticava e dimenticava i dolori e le pene e si deliziava dell'affascinante esistenza di un principe viziato in un palazzo reale. Giorno e notte lo ossessionava un desiderio, quello di vedere un vero principe, vederlo con i propri occhi. Ne parlò con qualche suo compagno di Offalcourt ma costoro lo beffeggiarono e lo derisero così crudelmente che da allora in poi decise di tenersi per sé il suo sogno. Spesso leggeva i vecchi libri del prete e lo pregava di spiegarglieli e di commentarglieli. A poco a poco i sogni e le letture produssero su di lui strani cambiamenti. I personaggi dei sogni erano così belli che cominciò a sentirsi a disagio nei suoi cenci miseri e sporchi a desiderare di essere pulito e meglio vestito. Continuò tuttavia ad andare a giocare nella fanghia e se ne compiaceva pure. Però, invece di guazzare nel tamici per solo spasso, cominciò a scoprirvi qualcosa d'altro, e cioè che in questo modo si lavava e si liberava dal sudiciume. Tom nelle sue scorribande nei dintorni di Maipoli in Cipside trovava sempre qualcosa di interessante, specialmente alle fiere. Ogni tanto lui e i londinesi avevano l'occasione di assistere ad una sfilata militare quando qualche noto disgraziato veniva condotto prigioniero alla torre, sia per terra come sul fiume. Un giorno d'estate vide la povera Annaschio e tre uomini bruciati vivi sul rogo a Smithfield ed ascoltò, senza troppo interesse, il sermone che un ex vescovo faceva agli spettatori. Tutto sommato, la vita di Tom era abbastanza varia e piacevole. A poco a poco le sue letture e i suoi sogni produssero in lui un tale effetto che cominciò, inconsciamente, a fare davvero il principe. Il suo linguaggio e i suoi gesti divennero stranamente cerimoniosi e raffinati, con grande stupore e sollazzo dei suoi amici. L'autorità di Tom fra quei mocciosi cominciò tuttavia a crescere ora, di giorno in giorno, e ben presto si attirò la loro stima e prese ad esercitare su di loro una certa soggezione, come fosse una persona superiore. Sembrava che conoscesse tutto, faceva e parlava di cose tanto meravigliose quel ragazzo, e per giunta era così saggio e istruito. Ciò che Tom diceva e ciò che Tom faceva veniva riferito dai piccoli a quelli più avanti in età, e anche costoro cominciarono a parlare di Tom Canti a considerarlo come una persona straordinaria e di rari talenti. Gli adulti stessi cominciarono a disporre i loro problemi a Tom perché li risolvesse e spesso rimanevano svalorditi per il suo intuito e per la saggezza delle sue decisioni. Divenne un eroe per tutti coloro che lo conoscevano, eccetto per i suoi di casa che non vedevano nulla di straordinario in lui. Un po' alla volta, privatamente, Tom si organizzò una corte reale. Egli era il principe e i suoi amici più intimi formavano il corpo delle guardie, i ciambellani, i cavalieri, i gentiluomini e le dame di corte, come nella vera famiglia reale. Ogni giorno il finto principe veniva ossequiato con delle complicate cerimonie che Tom aveva appreso dalle sue letture romantiche, giornalmente i grandi affari del fantastico reame venivano discussi nel reale consiglio, e quotidianamente l'immaginaria altezza proclamava decreti ai suoi immaginari eserciti, alle sue flotte e ai suoi vicere. Dopodiché Tom rientrava nei suoi stracci, mendicava pochi soldi. Mangiava una crosta di pane, si prendeva la solita razione di improperie di busse e infine si sdraiava sulla scarsa, sudicia manciata di paglia a rivivere nel sogno le sue immaginarie grandezze. Quel suo assillante desiderio di vedere almeno una volta un vero principe in carne e ossa crebbe in lui giorno per giorno, settimana per settimana fino a cancellare le altre sue aspirazioni, e divenne la sola passione della sua vita. Un giorno di gennaio, nel suo usuale giro di accattonaggio, avvilito, vagabondava su e giù nel tratto da mincing lani a lit e list e chip. Per ore e ore, scalzo e tremante di freddo, osservava le vetrine dei rosticceri, avido dei salsicciotti e delle altre voluttuose ghiottonerie esposte. Quelle cose erano prelibatezze riservate agli angeli. Almeno a giudicare dall'odore, perché lui mai aveva avuto la buona sorte di possederne una e poterla gustare. Cadeva una gelida pioggerella, il cielo era oscuro, era una giornata melanconica. Venuta la sera, Tom arrivò a casa bagnato, stanco e così affamato che anche suo padre e la nonna si accorsero del suo misero stato e ne furono commossi come di solito non accadeva mai, gli diedero subito uno scapaccione soltanto e lo spedirono a letto. Per molto tempo lo sconforto e la fame, le bestemmie e le risse nella casa lo tennero sveglio. Infine i suoi pensieri lo portarono lontano, in terre romantiche, e cadde addormentato in compagnia di personaggi principeschi, carichi di gioiali e d'oro che abitavano in un palazzo immenso, con servi che gli ossequiavano o volavano ad eseguire i loro ordini. Poi, come al solito, sognò che, lui stesso era il principe. E per tutta la notte le glorie del suo regno brillarono su di lui. Si aggirava fra grandi signori e nobili dame, fra un scintiglio di luci, rari profumi, sperduto in musiche celestiali e rispondendo ora con un sorriso ora con un cenno del capo incoronato alle rispettose riverenze di una folla brillante che gli faceva ala mentre incedeva. Al mattino quando si svegliò e rivide attorno a sé la solita desolata miseria, il suo sogno ebbe il solito effetto, quello di accentuare mille volte di più la sordidezza che lo circondava. Allora fu sopraffatto dall'amarezza e pianse.